La pizza è pronta, eccola qua Lo so, la forma fa un po' cacare Ma l'importanza è tutt'altro E il sapore, giusto mamma? Si, che si è saporita Allora, l'impasto è di mia mamma, quindi dovrebbe andare ok La mozzarella l'abbiamo scelta per bene Il salame pure, le olive pure Speriamo che le olive, perché al suo sotto Non so se sono state le olive, ma ho passato una nottata Nel gabinetto Speriamo che non ricapiterà, perché Se no, io sarò fottuto Vi ringrazio per la visualizzazione Se vi iscrivetevi al canale, se mi avete conosciuto adesso O se non l'avete già fatto Commentate, lo so che è un video di merda Fatevi sapere un po' la vostra Se avete fatto mai una pizza a casa Se ci proverete a fare questa ricetta che vi ho Eh... detto io Anzi di mia mamma È modificata da lei Grazie, grazie e alla prossima